Non so perché questa mattina mi sono svegliato e non avevo più i miei piedi Uno c'è un unicorno e l'altro un drago Questo qui è una metefora Sì, è una metefora, apposto Che cazzo è una metefora? Ragazzi, bentornati all'interno del video più ilare, più divertente e più fantomatico di questa settimana Pensate che Sacra Giulia disse ai tempi Non fudono gli uomini a creare crimini ma le donne con il loro sciato Non ho capito niente Un saluto a Sacra Giulia Ma è una fase... È mnemonica No, visto che non siamo al periodo giusto De che? Ragazzi, siamo tornati all'interno del format dove dovremo mimare delle parole, delle situazioni E ovviamente chi starà seduto qui avrà il compito di indovinare che cosa la persona qui in piedi sta mimando Per esempio, se la parola indovinare fosse teatro, come... Io avrei detto corte... Che schifo... Ma meglio... Ma io... Ma che... Vabbè, avete capito come si chiama questo format? Mimo... O t'inculo Ma come mimo t'inculo? Non me lo ricordavo più com'era, mimo o? O t'indovino O t'indovino Mimo t'inculo Che volgarità di forma No, mimo, mimo t'inculo In che senso? Mimbo 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 t'inculo Capito? Non ho capito Ma va bene, non importa Vabbè, avete capito ragazzi? Adesso utilizzeremo sempre un generatore di parole casuali Yes Io deciderò quella parola giusta, la mimerò e voi dovrete indovinare Ricordiamo che noi stiamo portando il teatro davanti e se volete venire a teatro sono i bietti qua sotto Esatto ragazzi, ci siamo anche rotti i coglioni di Virgo L'abbiamo 40 dati, in giro per l'Italia, il teatro, venite, niente più sotto in essenza Uno, due, tre Uno, due Ci pongo il terzo Vai Buonasera Buonasera a tutti Lei è Pinocchio Oh Sì, Pinocchio Madonna Prova di dare una bugia Sono alto Ammazza, è Pinocchio Come vai qui? Sono venuto qui perché mio padre mi ha segato Che senso? È una storia abbastanza lunga da raccontare Ma, ma il Sirgeppetto? Il Sirgeppetto al quale è stato sparato in petto Oh Madonna, l'usto di saluti Allora, ragazzi, inizio con la prima parola Sì, che cosa è? Un lavoro Non posso dirti niente Vai Scusi, dai, io Se ne vado! Se ne vado! Vino! Tu hai capito? Sì Come si Ti avrò là? Eh? Ma non è un lavoro? Che cazzo Può essere qualsiasi parola Ok, se ne vado Ok, altra situazione Sì Mi sento urlare Per cui c'era Per caso mi puoi dire l'ora? Scorbutico Scorbutico Mi lasci stare? No! Ti odio Arrabbiato Arrabbiarsi Arrabbiare Incazzato Incazzarsi Incazzarsi Wow Irrascibile Vada via! Arrabbiato Incazzato Ehm Un mago? Chi è? È un mago È un stagone Casanova Ma non farti condizionare Era lui Che Ci siete quasi Incazzoso Inrascibile Sinonimi Incazzato Arrabbiato Nervoso Scontroso Ehm Impedò Impedò Ci siete quello Impedoso Nervoso Avete ancora due tentativi a testa? Cioè uno e uno Probabilmente è quella la parola Eh per forza Ehm Una persona che agisce di Impetuoso No? Impetuoso Impetuoso esiste? Impetuoso Orbutico Era furioso E tu e testa erano? No no una testa Era furioso Potevi farlo meglio Furioso Ma l'avevate capito? Guarda una volta che Che avevamo capito E dovevi fare Furia Cavallo del West Cambio Piacere lei eh? Buonasera a tutti Sì Sono un lestofante fiero Che cosa vuol dire? Questo ogni tanto viene fuori Questo lestofante Sono un famoso Perfetto di questo movimento Forse ne avete visto anche Sul mazzo di carte Il famoso jolly Ecco da mi sembra Deve l'ha già vista E come mai qui? Ehm Bellissima domanda Dovrebbe fare il giornalista Non vuole dare una risposta? Ehm Bazzicavo da queste zone Bazzicavo? Bazzicavo da queste zone Ma dai Mi ne sto fatti feso di Siamo soliti Interloque Al nostro Io Ma vedrai che Tutto sommato Le idi Sono di mazzo Basta Poesia Teatrante Opera Tranquillo Il tutto si risolverà Il meglio Barba Ha fatto una barba al pelo Io non sto coprendo niente Tutto un casino Che cazzo vuol dire? Senti la barba anche io Allora Le idi solite Sono di mazzo Ma guarda Potrei dirti tante cose Ma non so da dove Tranquillo Tutto si risolverà Che farà gatto All'argo Lasciarà Proverbi Detti Metafore Saggio Sì Veramente Come Come saggio No perché ha fatto così E siccome è una persona Che diceva Proverbi su proverbi E messo così Un saggio Un saggio E' un saggio Bravi Io mi sapevo Saggio Era saggio Io avrei ballato Bravo Ah saggio breve No saggio di danza Buonasera Buonasera Lei è? Lei è? Roberto Bolle Tornato con noi Grande Perché avevo Un'esibizione Alla scala Alla scala Alla scala Alla scala Che cazzo Però E' lei qui E' che su qua Vabbè C'è sì di leggi Vai Ce l'hai? Aspetta Ho paura Di quello che sta per succedere Quando tanta cerca qualcosa Potrebbe essere Eh guarda La gassetta Alla Perché Bob D'aggiusto tutto Però se parlo qua capite Parla come vuoi Parla in inglese Ma cosa ti serve ancora? No Non mi serve niente Allora Mi si è rotto questo Vediamo cosa posso fare Aggiustare Meccanico No L'ho sbagliato Andiamo a partire così Tanti uggenti di shell Capperi Combinazione Coincidenza Precisione Riempire Cosa Cos'è Telecinesi Istruzioni Istruzioni Non è proprio Come posso farvelo capire E' istruzioni Ci stai No Stai pensando Regolamento No Era così Ho sbagliato Questa fa parte Non riesco più a scendere La persona Al personaggio Non riesco a capire Se la scena o no Questo è il bello Ma ti seguo così tante cose Eh come faccio a farvelo capire Più di Indice Posso cambiare la parola No No Ho messo tutte azioni molto Fai vedere cosa stai facendo Non so neanche io cosa sta facendo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma cosa vuol dire Cosa significa Allora aspetta Cos'è un lavoro Un oggetto Una cosa A questo punto si dice Quando non significa È una parola Ok Tutte sono parole È una parola Ehm Un aggett Nonostante sbaglierò Un sostantivo Ma come fate a non sapere Cosa è un aggettivo Un aggettivo Cioè Ho un nome È un aggettivo Ho un verbo Che cazzo Farmi usare la testa Così 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 Pensiere Applicazione Applicarsi Ingegnere Ingegnarsi Intelletto Intellettuale Geni Genitori Geniale Bravo C'è stato bravo Intuizione Intuiz Intuizzi Intuimento Bravo Vabbè Ingegno Progettualità L'ultima testa Vai Sì È sempre una parola Di quelle lì Che sta arrivati Ok Allora Per me è Ricordate testa Testamento Dai Testa Nel senso Cazzo Ci sono arrivato Ah era così Ragionamento Bravo Ragionare Eh ma era difficile Cos'è Logica Come tua mamma è logica Eh è bella però è difficile Ma questo è un aggettivo Un sostantivo Cosa Logica Non so neanch'io questo Uno zero zero Uno zero zero Cambio Buonasera Buonasera Chi è questo Parkour Brumotti Yuri Keki Come vai qui? Perché non c'è un cazzo da fare E volevo dire qua Mi sono fatto malissimo Allora Vada Ragazzi Sarà troppo facile No piano Partorire Piano Ginecologo Rapporto Piano 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 Oh Sesso No 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 Penetrazione No no Consensualità Cos'è Dopo Anmaria Dopo Anmaria Operazione Verginità Vergine Siiis! Como vai, tempo a circuits di vento? Dopo che li ha fatto il rapporto li faceva male Uno uno zero Lei è? Ma mai ho già riposato Ma he Für Michael Jackson? No Sono una Rayplay? Il replay, il replay, va bene, guardi, you angry, ma vaffanculo you angry, ma poi questo è già te penso, vabbè ci siamo capiti, vabbè ci siamo capiti, basta che non ripeta quello che fa, la prego, caduta, incidente, Ma scivolare, scivolata, inciampare, continuo, continuo, spadato, banana, no, scivolare, ma lei è il signore play, ah sì è vero, bravo, hai fatto questa cosa sette volte, abbiamo capito, cambia qualcosa, facci capire, vabbè, ostacoli, moto, vespa, Ma l'anno stiamo andando, non andrò qua, c'è un volo di prima, pensate, scavallare, incidente, preso sotto, pedone, ma l'anno stiamo andando, non andrò qua, tanto stiamo andando a continuare a occupare, a Napoli, uno che scappa senza andare, ma l'anno stiamo andando, non c'è, costata, casco, cascare, casco, 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 casco Perchè? Perchè da noi? Concentriamo? Nei video! Bisogna metterla, bisogna usare la voce naturale Ok? C'hai la parola? Sì, questa è solo MIVO A proposito Non riesco a capire quando parli con il Serramito quando inizi Sono iniziato! Ok No! 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 No Biorino Cos'è? L'arpa? No! Abbiamo capito, non sono tutti questi strumenti Ma? Ma? Batteria Xilofono Eeeh Complimenti Ma che è? Si no Ma hai mai sentito questa parola Tu mai che l'hai mai sentita Si è arrivato con il legno poi, vero? Eh sì Eh sì Il legno sì Due due zero Buonasera Buonasera David Beckham E' lui E' lui E' lui E' lui E' lui E' lui E' David Beckham Come mai qui? Sono qui perché mi sono rotto i coglioni di quelli che usano l'autotune Molto piacere Bellissimo Posso iniziare? Carlo, prego Non mi hai visto un culo così bianco io eh Sbagliati voi che avete il culo attrazzato d'inverno che è diverso Eeeh Resto è da fare Cheeeeeeee Politico Dittatore Si questo è da fare Dittatore c'è a fondo con la popolazione non è che tutti lo applaudono Cos'è questo? Sei questo un retaglio o qualsiasi cosa una casa, una casa, inizia ad entrare in una porta, chiudi, scrivi, dopo, ripasso, testamento, notaio ti confonde quando fanno, per me è da te un grande onore, grazie a tutti, presidente, sindaco, sindaco 3, 2, 3, 2, 0, ah vuoi anche una, dai, cambio, 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 ma chi cazzo è? Buonasera a tutti, sono delle produzioni umana, bellissima, bello, 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 Eroi, ti sei evoluto Poi che sono... Ti sei evoluto Involuto Ci sei? Scusi... Come devo darle lei all'evoluzione umana? Mi via del... Delle Lectus Ok... Lei... Uomo Lectus... Come mai qui? Mi ha detto che sono molto abilis a questo gioco Prego, ci faccia sognare AAAAAAHAH!!! AAAAAAAH!! AAAAAAAH!!! AAAAAAHAH!!! AAAAAAAH!!! AAAAAAAH!!! Aaaaaah!!! Shh basta... Stanno volando quelli in ufficio alla parcolia Fa urla a noi Un urlo devi fare Abbiamo capito poi Quanti urli Io ho già capito Vespe l'attacco Mapi C... Calabroni Scalabè Paura Circondato Stormo Calabroni Nido o giù? Nido d'api Questa è tua, io ce l'ho No, 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 asciuglia L'hai indovinato lui wow eh, ho capito ohhh apicoltore miele te lo stai indicando? eh? eh. quindi? sei nido come si chiama è? Capito? No Io l'ho capito Insetticida Quello che uccide le api comunque Le facevi cadere C'ha a che fare con le api Questo non capisco cos'è Cos'è sta roba? Sì ok Questo è un nido Cosa l'abbiamo già detto prima Attacco Rincorso Sciame di api E indica C'è la Mike Alveare Siamo dei coglioni noi Questa volta Abbiamo beccato Alveare Quella Mike ha più punti di te Ciao Mike Grazie a lui Io prima stavo pensando a come si chiamava Ma non mi vedo Io a un certo punto ho capito Che fosse l'apicoltore Volevo dire anche chi è l'apicoltore 3, 2, 1, 0 Noi ci sono 3 3, 2, 3, 2, 3 2, 3 2, 2, 3 2, 3 Cambio È tornato le amici Buonasera 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 Positivo o negativo Positivo Stai pieno dei soldi Sì, pieno dei soldi Sì, stai pieno dei soldi Va bene, io vado Vai 2015 2015 Andate a tutti Diciamo le cose Telefono? Vuoi il telefono? Riso? Come riso? Ah, il telefono Telefono Riso Sì, diciti Pronto? No Ah, tantissimo tempo fa Una vecchia chiamata Ecco perché arriva dal 2015 Ah, lo so Aspetta, ce l'ho, ce l'ho Sì, sì, sì Lettera No Quello dove si trovavano i numeri Come si chiama? Indice Tritacarte Elenco telefonico Pagine bianche Macchia da scrivere Satellite Satellite Tritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Fax, codice morse, codice binario, codice trasmittente. Se non è fax, non è questo, è molto passato, bla bla bla, cosa può essere? Telegrafo, veramente? Telegrafo? Si o no? Eh si Come telegrafo? Fammi leggere Dai, telegrafo Telegrafo Ma tu lo usavi? No, infatti ti ho detto molto, sono, anni fa Lui oggi ha scelto parole complicatissime Un applauso Ultimo giro, ma non per importanza Oh, cazzo Piacere, Riccardo Dossi del futuro No Cosa mi è diventato? Il magazziniere? Si, nella tua stessa azienda No Eh si Perché tu stai facendo Ti sei un po' sessato nel canale e stai facendo video da solo Un ruoto facile Un ruoto facile Un ruoto facile Un ruoto facile Come vai qui? Perché Volevo cercarmi di ributtare dentro questo mondo Ok Ci sta Ci sta Ben trottato Grazie Saranno giochi di parole Ok Ok, qui ci arriva bravo Si, alta marea Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Non lo so come fa È mare È un mare È acqua però È vento Onde Onde? Si ma... Si? Solo una panna No! No tutto quanto, solo una panna Non lo so è Porco Dio C'è Очень Oh, indigini, indiani, indigini, pelle rossa, pisello, adame, ah, e cosi, si, sputa ancora un po', sono i cosi questi, i primitivi, abrigeno, è un gioco di parole però, mi fa che dovete pensare, fiumi, ah, proviamo, oh, oh, fiume, aborini, case, tetti, pieno, world of rock, assassin creed, no, paragattista, baci già, questo è Gesù, è Rio de Janeiro, Rio, rio, l'altro era Rio delle Amazzoli, io sono stufo, non ne posso più, ma come si fanno in queste battaglie, rio, 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 c'è quella delle emozioni, si capisce, rio, rio delle Amazzoli, eh sì, anzi io sono in vantaggio, quanto siete? Io quattro, io tre, tu quattro e Mike uno, lei è, agua del presente, è vero, mi hai chiuso il canale da poco, eh, non faccio più video, eh, sono tornato, ovvero c'è un posto di bagazzino, che ha deciso di, eh sì, mi sono fatto raccomandare, da chi? Un certo dentro, perché lui si fa il console? non ha senso sta cosa non ho capito forse è perché ci aiuta a capirle infastidito mosca ascolta vuol dire sto ufficiale scartare stufo ma no infastidito cosa vuol dire sta roba? non capisco o vuol dire parla però ne altre infastidito no no è una cosa che dici con un cuo a bocca detto da una persona in prima persona ah ok ho capito che palle esclamazione no devi proprio dirla tu non mi rompe smettila stai zitto zitto che stress ma non qui insopportabile noi dobbiamo dire la parola che lui stavrebbe dicendo a questo capito? eh quindi usalo in prima persona ma che me lo metti qua? ma ha già scassato un gazz ma che me lo metti qua? ma non lo dogliela qua? appiccicoso appiccicoso ma no lo puoi dogliela qua? non mi ne mette niente non ce l'ho prenderla a te ma no ma no sto d'orso qua no basta smettila cos'era? leva 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 non ci credo non ci credo io non ci credo ti prenderai a calcio il culo adesso visto che era o mimo o ti inculo cos'era? o un tu mi hai detto usa la parola ma ma leva fammi così cioè fai uno capire un altro modo così leva le volte hanno parole guarda questo è stato il peggior salve salve lei è? io sono il corriere il deliveroo devo lasciare questo ok ma chi è? ma che cazzo ma per ma chi è? siete in due qua chi è ordinato? io io e allora mi rispondi ma che cazzo me l'ha già mangiato ma lei è un cofione ma che cazzo dai vedo di parte curva è qui sono qua perchè ho consegnato la roba ok grazie mille ti 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 nonatore pescatore sub incazzato lo sto illuminando da 10 secondi ok cano da pesca piombo va giù galleggiamo ancora onde di maremosto maremoto mare c'è tutto sto che ad esempio decimare no mareggiata prende mi faccio adesso apnea apnea maremoto canter squalo pericolo bagnino freddo ipotermia pinocchio e filo della balena pesce palla squalo concorri pinocchio balena balena ah è un animale tondo salmone tondo pollo polpo squalo pochè io sono molto felice dammi sempre quello tondo mi conoscete salmone pollo ehi cameriere sempre il solito ah 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 nigiri e se le fai così avete in di due tartare mi ha qualcosa di sushi però mai cos'è sta cosa ci siete ci siete è una cosa giustissima polpo polpo dammi uno di quei sempre quello ma che cazzo fenne da mangiare che gli piace così tanto ah dai fritto misto gambero fritto di mare gamberetti sardina fritto misto fritto dai ci siete è un cazzo di animale di pesce fritto dalici dalici ah calamaro tu pure prendi sempre in giro prendi sempre il fritto misto i calamari abbiamo fatto delle origini io il mare tutti i pesci tutti i pesci ti ho fatto la fiamma la fiamma i squali una frase ma anche da te tra me eh sì è l'ultimo l'ultimo punto va da 15 quindi va dai ancora qui c'è io io sono cinque ho vinto tutto mamma mia mi piace salve lei è Morgan Freeman Morgan Freeman è lui cosa ci fa qua sto recitando un attore Morgan Freeman si certo è una milano prima di essere un attore un uomo di bar ricorda Freeman vamos vai vamos per la spagnola Morgan Freeman ok ce l'hai vamos vai guarda che contento prima attore la gallina gallo tacchino covare pulcino uovo gallinella sangria bravo bravo cazzo piccolo piccolo cabbiano cucino canadino guaglia 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 anatroccolo ok oca piccola io ci sono uno due tre siete dei sushi mangiate ah brutto anatroccolo anatra si si bravo ancora ancora l'onardo 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 grazie niente niente grazie a voi ho proprio chiusa la mia giornata 7 con questo noi non è te 7 poi pensimo 0 è vero 0 oggi ragazzi termina qui questo nuovo video di mimo ti in culo speriamo che vi siate divertiti scrivete la prima cosa che vi viene in mente qui sotto nei commenti io ringrazio i miei commentatori Awed e Dada e il brutto anatroccolo no non brutto bellissimo bellissimo anatroccolo Mike noi vi ringraziamo vi salutiamo e ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti adios e hasta luego